Presto sarà un uomo e muoverà i primi passi verso il suo futuro da re di Paititi. Aspetterete questo giorno con ansia. È la speranza di vederlo, a darci la forza di opporci ad Amaru. È sempre bene tenere a mente per cosa si combatte. Posso essere utile in qualche modo? Alla morte di Saidi, il padre di Ezli, un urato mi ha onorato con il ruolo di padre adottivo. Uno dei miei competi sarebbe di riunire tre oggetti sacri per la cerimonia. Ma con tutto quello che sta succedendo non puoi farlo. Di che oggetti si tratta? Dell'amuleto del Redentore, l'arco del paladino e il corno del re. Ciascuno è una benedizione degli antenati del futuro re. Dimmi che ti serve e vedrò che posso fare. Ho già degli uomini alla ricerca dell'amuleto e dell'arco. Se trovassi Cabine, il costruttore di strumenti, e ottenessi il corno del re da lui, ci faresti un grosso favore. È un tipo difficile, ho mandato due uomini, hanno fallito entrambi. Potresti parlarne alla moglie? Penso di poterci riuscire. Fa attenzione. A volte Cabine può essere ostinato, ma Abra, sua moglie, sa bene come ammorbidirlo. Abra, sua moglie, sa bene come ammorbidirlo. Abra, sua moglie, sa bene. No, non lo so, non lo so. 29 novembre 1603 Dopo cena, Lopez ha lasciato la città. L'ho seguito, temendo che non avrebbe più fatto ritorno. L'ho trovato invece in piedi sulla sponda del fiume, intento a pronunciare silenziosamente una preghiera. Non volevo disturbarlo, così ho atteso che finisse. Ma la sua comunione con Dio deve essere durata tutta la notte, e temo di dover ammettere di essermi addormentato, dato che la prima cosa che ho visto aprendo gli occhi è stata la sua figura stagliarsi sorridente sopra di me, con il sole del mattino dietro come un'aureola. Mi ha aiutato ad alzarmi e mi ha stretto in un caloroso abbraccio. Truilos, so dove trovare il manufatto. Mi ha bisbigliato all'orecchio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Dovrò fare attenzione Grazie a tutti